Per me è un grandissimo onore e una grandissima responsabilità questa di assumere questa presidenza, soprattutto dopo una presidenza così lunga e così proficua e così concreta di Giovanni Paccapelo. Il mio intento è quello di cercare di emularlo, di mantenere almeno i livelli così alti di questa associazione culturale che è così importante nel panorama della nostra città, cercando anche di avere qualche impegno di salire a qualche altro gradino. Non è facile perché è già abbastanza alta, bisogna stare attenti a non farsi girare la testa e perdere l'equilibrio, quindi bisogna mantenere i piedi per terra ma con voglia di andare avanti e proseguire. Perché c'è tanta voglia di andare avanti, c'è molta voglia di cimentarsi con la normalità e il teatro rappresenta anche il mondo della vita quotidiana che viene rappresentata sulle scene ma è la vita quotidiana di tutti noi e che dopo un periodo così tormentato e che continua ad essere tormentato purtroppo, di cui non è che abbiamo in visione la fine, è importante che ci sia questa voglia appunto di ricominciare, di rinascere e di rimettersi in gioco e in discussione e di cercare, tra virgolette, una normalità perduta di cui abbiamo però grandissimo bisogno. Io certamente resto un appassionato del teatro e del teatro amatoriale in particolare, quindi la passione non si può dimenticare con un passaggio di consegne, quindi resterà sempre un pallino particolare che mi ha accompagnato per tanti anni che poi è diventato affetto, poi è diventato amore, la conoscenza di tante persone, tanti personaggi in giro per l'Italia che hanno dedicato la loro vita a cercare di capire che cosa quegli autori volessero davvero rappresentare e anche questo è un compito sicuramente interessante e piacevole, quello di andare a riscoprire un testo e di vedere ma in quanti altri modi io lo posso rappresentare e quindi l'amore per il teatro naturalmente rimarrà. Forse il riferimento al teatro che si è fatto stamattina è proprio quello, è raro che un luogo come quello del Consiglio Comunale che ha ospitato questa conferenza forse ospitasse degli applausi, stamattina ce ne sono stati tanti perché era veramente doveroso riconoscere a Giovanni Paccapello il merito di una carriera molto lunga e di straordinario successo per la nostra associazione. Tutto questo successo che è inevitabilmente anche una responsabilità sulle spalle di Maurizio Sebastiani che però nella sua carriera ha già dimostrato di avere delle spalle molto molto robuste quindi siamo molto molto fiduciosi e felici che sia passato nelle sue mani l'eredine della nostra associazione.